Riaperta la discarica di Conversano. Una notizia inaspettata ma sicuramente buona per la città di Trani che tira un sospiro di sollievo dopo una giornata, quella di ieri, che ha visto arrivare nella discarica AMIU i rifiuti provenienti dal sud-est barese che non potevano più essere conferiti in quella di Conversano. La Procura di Bari infatti ha concesso la facoltà d'uso di una vasca nell'impianto Martucci dove per i prossimi 30 giorni saranno smaltiti i rifiuti dei comuni del bacino Bari 5. Questo significa che pur restando sotto sequestro per i successivi ed ulteriori accertamenti, la discarica potrà essere utilizzata per conferire i rifiuti a seguito del processo di biostabilizzazione. La decisione del sostituto procuratore di Bari, Baldo Pisani, è stata presa dopo aver constatato le difficoltà incontrate dai comuni a trasferire i materiali a Trani. Il timore del sindaco Luigi Riserbato e dell'amministratore unico dell'AMIU, Antonio Ruggero, di dover accogliere i rifiuti per un periodo che avrebbe potuto superare i 10 giorni fissati nell'ordinanza regionale è finito presto. Nella discarica di Trani continueranno ad essere smaltiti, probabilmente fino al 31 dicembre, i rifiuti dei bacini Bari 2 e Bari 4. Nella discarica di Trani.